Giornata di grande formazione e networking qui al workshop di Alessio Beltrami che seguo online, offline, podcast, eventi e un professionista molto generoso riesce a trasmettere con semplicità e ironia concetti molto importanti per il business e oggi sono raccolti in questo libro che sicuramente utilizzerò anche per il mio lavoro e i miei clienti per quello che riguarda principalmente l'email marketing. Grazie Alessio.